Sesta edizione di Viva Viva la Befana ad Ostuni, dopo un bel Natale il gruppo Folk Città di Ostuni si prepara a questa sesta edizione all'interno dell'area mercatale. Tonio, quali le novità di quest'anno? Voglio incominciare facendo dei ringraziamenti e i primi li voglio fare ancora una volta all'amministrazione comunale che ha creduto in questo evento. È un bellissimo evento inserito nel calendario invernale intitolato, come tutti sappiamo, Natale Insieme. Noi lo chiuderemo insieme ad altre manifestazioni e pensiamo di chiuderlo alla grande questo calendario. quindi dobbiamo cercare di fare bella figura. Le attrazioni che hanno già avuto successo non li possiamo cambiare, li possiamo solamente potenziare, migliorare e questo noi faremo. Che cosa ci sarà di particolare, oltre naturalmente alla gastronomia, il famoso rogo della Befana, ma anche lo spettacolo tradizionale del gruppo Folk Città di Ostuni? Che cosa ci sarà? Quest'anno abbiamo pensato di allestire un bel palco grande, un 8x8, dove abbiamo invitato uno dei più bravi intrattenitori che abbiamo in Puglia, la compagnia dei girovachi, Enzo Pazzo, è molto famoso. Lui saprà aglietare i più piccoli con le sue magie, con i suoi numeri che ci ha di attrazione. Quindi ci sarà un gioco di fuoco prima di incominciare il falò. Sarà veramente una bella festa. Quindi l'invito è a non mancare il prossimo 5 di gennaio con Viva Viva la Befana? Sì, non dobbiamo mancare perché nelle prime cinque edizioni abbiamo riscontrato nelle famiglie grande partecipazione, migliaia di famiglie hanno partecipato l'anno scorso. L'invito è proprio di venire giorno 5 gennaio perché sarà una giornata fantastica, magica per i più piccoli, sapranno farsi insieme ai più grandi la passeggiata in trenino, andranno di nuovo al battesimo della sella. Abbiamo potenziato anche quel settore, ci saranno dai 3 ai 5 cavalli dove nessuno andrà via senza aver fatto la passeggiata a cavallo. Ringraziamo anche gli amici della Croce Rossa Italiano che faranno le strutture dei palloncini, l'amico Gianni di tutta festa. Ringraziamo anche la nostra Befana che saprà dare dei doni ai più piccoli e poi lo spettacolo nostro di 20 minuti, mezz'ora, giusto per onorare anche i nostri ragazzi per tutti i sacrifici che fanno, per l'impegno che mettono per la nostra cittadina e poi lo spettacolo, anche quello in breve, un quarto d'ora, degli sbandieratori carvinati di Carovigno. Viva Viva la Befana è un evento che ha sempre avuto successo nelle edizioni precedenti e noi abbiamo tenuto, insomma, di dare un'altra possibilità per un altro grande successo. Possiamo tracciare un bilancio a pochi giorni dal Capodanno di come stanno andando le manifestazioni natalizie? Ma guardi, io lascerei la parola veramente ai nostri concittadini. Io penso che questo Natale abbiamo avuto modo di vivere un'area diversa, no? Ho visto tante persone in giro, tante persone che hanno partecipato un po' a tutte le manifestazioni, quindi penso che quello che volevamo ottenere un po' noi era quello di vivere un Natale diverso, tutti insieme e penso di averlo ottenuto tutti insieme.